Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con calcio e caffè lunedì 15 febbraio. Inizia una nuova settimana di cambiamenti per il Palermo dopo la sconfitta interna per 3-1 col Torino. Infatti pronto un nuovo avvicendamento in panchina. Giovanni Bosi non dovrebbe più restare alla conduzione della prima squadra. Dovrebbe così tornare ad allenare la primavera del Palermo. Adesso Zamparini sta pensando ad un ennesimo clamoroso cambio in panchina. Potrebbe trattarsi del ritorno tanto paventato di Giuseppe Iachini. Potrebbero esserci altre sorprese. Quasi sicuramente il Palermo partirà domani alla volta di Roma per il ritiro punitivo. Una settimana lontano da Palermo per preparare al meglio la trasferta di domenica prossima contro la Roma allenata da Luciano Spalletti. Dunque è ancora caos all'interno del Palermo dopo un'altra sconfitta casalinga 3-1 ieri pomeriggio contro il Torino. Vedremo questo e tanto altro dalle pagine dei giornali che troverete questa mattina in edicola. A partire dalla Gazzetta dello Sport che apre in prima pagina con la sconfitta nel posticipo dell'Inter che viene rimontata dalla Fiorentina e torna terza in classifica. Vediamo anche la vittoria del Milan contro il Genoa. Il Rossoneri sono lanciati anche se ci sono problemi con Balotelli che ha giocato soltanto 6 minuti. A segno Bacca e Genoa KO. Il terzo posto non è un utopiano, soprattutto la Juventus è risalita da meno 11 a più 1 in 15 gare, 15 vittorie consecutive. Un primato magico lo definisce la Gazzetta dello Sport. Vediamo tutti i risultati di quest'ultima giornata che è iniziata giovedì con la vittoria della Lazio sul Verona 5-2. Poi venerdì la Roma e Spugna Modena battendo il Carpi per 3-1. Nel sabato Empoli-Frosinone 1-2, Chievo-Sassuolo 1-1 e Juventus-Napoli 1-0. E poi le partite di ieri. Milan-Genoa 2-1, Palermo-Torino 1-3, Sampdoria-Atalanta 0-0. Udinese-Bologna 0-1, Fiorentina-Inter 2-1. Vediamo anche la classifica con la Juventus che scavalca il Napoli in testa. Quota 57, azzurri secondi a 56. Inseguono molto distaccate Fiorentina 49, Roma 47, Inter 45 e Milan 43. Questa è la zona Europa. Poi prosegue la classifica con Lazio a 36, Sassuolo a 35, Empoli 34, Bologna 33, Chievo-Torino 31, Atalanta 29, Udinese 27. Si entra qui nella zona calda con Palermo 26, Sampdoria-Genera 25, virtualmente salve a 13 giornate al termine. Poi Frosinone 22 a tre punti dalla zona salvezza. Carpi 19 e Verona sempre più ultimo a quota 15. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi. Passiamo ora all'altro quotidiano sportivo nazionale, ovvero il Corriere dello Sport, che apre anche il Corriere con la sconfitta dell'Inter nel posticipo contro la Fiorentina. Inter a picco il titolo di prima pagina del Corriere dello Sport. Riecco il Milan, Balotelli è un caso, la Fiorentina affossa Mancini. E si riprende il terzo posto, dunque vittoria allo scadere per i Viola, nello scontro diretto per la zona Champions League. Per quanto riguarda il taglio alto, leggiamo anche nelle lezioni di Sicilia e Calabria, il Palermo ci riprova con Iachini, il rosa nero travolti anche dal Torino, Zamparini chiama il vecchio allenatore. Per Bosi, ingenuità pagate care. Ascolteremo anche le dichiarazioni di Bosi nel resto della giornata. Carica Zazza per quanto riguarda la Juventus, il match winner della partita col Napoli. Ora segno anche al Bayern, dunque Zazza in grande forma dopo aver segnato il gol decisivo per la vittoria della Juventus nella sfida scudetto contro il Napoli. Palermo che, come leggiamo, ci riprova con Iachini. Vedremo anche nelle pagine degli altri quotidiani il riavvicinamento del tecnico marchigiano con il presidente Maurizio Zamparini e altri quotidiani che vediamo subito alla prima pagina. Quotidiani locali, passiamo al giornale di Sicilia che in prima pagina apre con il Toro in corna in rosa. Vediamo anche nella foto Sorrentino costretto ad uscire per infortunio immagina emblematica della partita ieri e soprattutto Iachini verso il ritorno. Probabile un altro ribaltone in panchina. Zamparini saluta a Bosi, potrebbe arrivare di nuovo il tecnico esonerato a novembre. Per Sorrentino si teme un lungo stop, problema muscolare, lesione muscolare per il capitano del Palermo sostituito ieri in corso d'opera dal 18enne Fabrizio Alastra di cui ascolteremo anche nel corso della puntata le sue parole a caldo dopo l'esordio in Serie A. Adesso passiamo all'interno delle pagine dei giornali che troverete questa mattina in edicola partendo dalla Gazzetta dello Sport e partendo dalla cronaca della partita tra Palermo e Torino ma soprattutto di quella che la Gazzetta definisce nel suo titolo la Farsa Palermo ovvero l'ormai sempre più sicuro ritorno di Giuseppe Iachini in sella ai Rosa. Leggiamo subito Torino, colpo made in Italy, Farsa Palermo torna a Iachini con 8 italiani su 11 un immobile super, Ventura vince e in guai a Bosi Zamparini cambia ancora tecnico. Leggiamo anche le pagelle dell'incontro di ieri per la Gazzetta dello Sport 5 complessivo a Palermo il migliore in campo è Girardino, un gol come i vecchi tempi poi sponde da grande centramanti mica facile contro uno come Glic che pure non arretta di un millimetro va vicinissimo al pareggio e l'ultimo ad arrendersi. Tra i voti vediamo anche sufficienza piena per Sorrentino, si infortuna in uno scontro con Andelkovic sospetta lesione del bicipite destro, 6 e mezzo migliore in campo anche a Lastra, debutto brillante stop a Benassi, Perez è immobile. Sufficienza piena leggiamo anche per Brugman e Ciocev, 6 per entrambi, 6 e mezzo per Vasquez, ispira l'1-0 e ci prova dalla distanza non sempre sostenuto a dovere, 6 anche a Giovanni Bosi non gli si può chiedere la luna, penalizzato soltanto due giorni di lavoro e poi gli infortuni in corsa dunque problemi per Bosi che non può essere attaccato stando alle pagelle della Gazzetta dello Sport per la pesante sconfitta casalinga contro il Torino. Questo è per quanto riguarda le pagelle e la cronaca della partita di ieri tra il Rosa e il Granata partita che è stato l'esordio reale dopo quello fittizio per così dire contro l'Udinese di Giovanni Bosi in classifica, Giovanni Bosi che commenta amaramente che errore sul pareggio, quell'episodio ha cambiato la gara e gli infortuni ci hanno condizionato ma il Torino ha meritato di vincere. Giovanni Bosi che ha parlato nell'immediato post partita di Palermo-Torino, noi vi possiamo fare ascoltare le sue dichiarazioni. Eravamo partiti bene, purtroppo abbiamo fatto un errore grave secondo me, un'ingenuità nel gol del pareggio e questo ha cambiato un pochino anche l'inerzia della partita perché loro prendendo gol subito venivano anche loro da un periodo non brillante, insomma sembravano un po' intimoriti e poi invece questo gol gli ha dato forza e sapevamo comunque che nelle ripartenze e nella velocità fanno un'arma importante, però l'avevamo preparata, però insomma l'avversario è stato più bravo e ha meritato la vittoria, non è che c'è tanto da dire. Sicuramente quando si perde si può fare qualcosa di più ma dopo è più facile. Dei concludere? Non ti sembra, però dico tu sei arrivato ora, sappiamo tutto il pregresso, ma non ti sembra che questa squadra non possa reggere tre attaccanti davanti quando gli avversari prendono la palla. Il Torino ha fatto 10, 12, 15 contropiedi senza che nessuno appena si perdeva la palla e mezzo. Il paremmo non può reggere tre attaccanti davanti. Secondo me li può reggere, se no non li facevo giocare, però è vero che il risultato dice che abbiamo fatto una partita brutta siamo andati in difficoltà su quelle cose in cui dovevamo essere bravi da evitare e poi colpirli magari perché anche loro comunque dietro sono una squadra con grande forza fisica, magari potevano soffrire la rapidità di Quaizone e la qualità insomma di Gila e Vasquez. Eravamo partiti bene, l'avevamo fatto anche bene, poi ripeto a volte un episodio ti cambia completamente l'inerzia della partita e loro si sono liberati mentalmente e lì siamo andati molto in difficoltà. Poi è anche vero che si poteva anche far qualcosa di diverso, però è anche vero che ti capita anche raramente che fai due cambi in pochi minuti per infortunio nel primo tempo e ti rimane solo un cambio e stai perdendo la partita, quindi diventa anche difficile fare le scelte. Orlando? Mister, non credi che tatticamente quello che ci ha messo più in difficoltà sono stati questi due esterni larghi del Torino sui quali i tuoi non hanno saputo prendere le adeguate contromisure, soprattutto nei movimenti a scalare dei difensori laterali? Sì, sì, no, beh, ma ripeto, non è che non lo sapevamo le loro qualità, avevamo pensato di affrontare in una certa maniera con l'Udinese l'avevamo fatto molto bene e la partita l'avevamo vinta perché comunque è logico che la coperta la tiri da un lato e si accorcia dall'altro con l'Udinese la gara era stata fatta in una certa maniera e aveva dato dei buoni risultati l'obiettivo era ripetere quel tipo di prestazione per metterli comunque in difficoltà, ripeto, perché comunque con i nostri tre davanti potevamo, per caratteristiche fisiche, la loro difesa magari li poteva soffrire però bisogna dire la verità che sugli esterni loro sono stati oggi veramente efficaci con grande qualità di passo e anche qualità di giocata Le parole di Giovanni Bosi nell'immediato post partita di Palermo Torino Bosi che ha di che ricriminare per gli infortuni avuti a partita in corso quelli di Goldaniga e quello di Stefano Sorrentino ma ha anche da recriminare per alcuni episodi arbitrali come possiamo vedere dalla manviola del Corriere dello Sport D'Amato che errori titola il quotidiano sportivo Molinaro su Quaisson, Fallonetto, Cervellera per quanto riguarda il Palermo non D'Amato, ovviamente Cervellera nega un penalty al Palermo ci sono diversi errori nella partita di Cervellera, uno in particolare sull'1-2 manca infatti un calcio di rigore per il Palermo c'è un primo intervento molto rischioso ma sul pallone di Benassi su Ciocev poi arriva Quaisson che viene toccato sul piede destro da Molinaro dunque un rigore negato al Palermo, episodio dubbio che comunque non cambia il giudizio sulla partita del Rosa qua vediamo anche il fermo immagine per quel che si può capire giustamente il contatto tra Molinaro e Quaisson dentro l'aria dunque un mancato rigore per il Palermo sul risultato di 1-2 rigore che avrebbe potuto cambiare la partita dei Rosa con la moviola del Corriere dello Sport ci prendiamo una pausa restate in linea con noi Passa a Team, ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita Negozi Team Spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di Via Orsa Minore 123 e Via Notar Bartolo 3 barra G English Extend è un corso di lingua costruito sui principi dell'apprendimento naturale e sociale con la nostra piattaforma brevettata Language Extend puoi svolgere questa attività a casa tua dal vivo, online, ti aspettiamo per imparare insieme Ampia scelta di occhiali da vista e da sole lenti a contatto e accessori teleottica Carla venite a trovarci siamo a Cinisi in corso Umberto 98 e a Terrasini in via Perez 78 telefono 091 86 65 661 tutte le mattine dal lunedì al venerdì calcio e caffè la rassegna stampa, gli approfondimenti e le esclusive di Stadio News 24 collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera ilcalciogiovanile.com trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano da oltre dieci anni portiamo le notizie a casa vostra come sempre da una squadra vincente Stadio News 24 la nostra passione di fare notizie e rieccoci qui a Calcio e Caffè c'eravamo lasciati con la moviola del Corriere dello Sport restiamo sulle pagine del quotidiano sportivo per quanto riguarda l'edizione regionale Sicilia e Calabria con la cronaca e le pagelle della partita Palermo-Torino il Rosa hanno perso 1-3 uno dei pochi positivi Vasquez, Vasquez, Cech, Wison o no? Malerispoli Brugman troppo fragile Girardino lotta e segna leggiamo le pagelle del Rosa 6,5 per Vasquez Girardino e Alastra i migliori in campo i 3 rosa 6 per Sorrentino prima dell'infortunio un paio di uscite tempestive dopodiché una serie di insufficienze a partire dal 5,5 di González al di là dell'autorrete immobile scappa da tutte le parti e non lo tiene sul terzo gol ma salva almeno in un altro paio di occasioni e poi 5,5 anche per Anderkovic e poi 5 per tutti fino ad arrivare Rispoli Illimark Traikovsky Ciocev Brugman e Quaisson dunque pochi si salvano per il Palermo tra questi abbiamo visto si salva assolutamente positivo l'esordio di Fabrizio Alastra all'inizio mi tremavano le gambe queste le parole del giovane portiere rosa nero che ricordiamo ieri a 18 anni ha esordito in Serie A la squadra è giù di morale ma il gruppo è unito pensiamo subito alla Roma queste le parole di Alastra che ha parlato nell'immediato dopo partita di Palermo Torino parole di Alastra che vi proponiamo qui in diretta su Calcio e Caffè Sì sicuramente sono felice per l'esordio a prescindere però il risultato è quello che conta in questi casi sono molto dispiaciuto comunque perché perdere davanti ai nostri tifosi fa male Credo che il tuo risultato personale e non è poco è stato eccellente perché sei stato il migliore in campo nell'arco della partita a mio giudizio Guarda per queste belle parole ti ringrazio però il calcio è un gioco di squadra è un gioco del collettivo quindi al di là della mia prestazione penso al risultato io e quindi sono comunque dispiaciuto al di là comunque per la felicità del mio esordio in Serie A Credo che deve costituire il capitano insomma iniziare bene personalmente credo che era comunque importante Sì certo Stefano è un grande portiere si sa questo quindi sono comunque felice di aver esordito bene di aver fatto bella figura grazie anche a lui comunque che il mio ingresso in campo mi ha dato tranquillità e mi ha dato un grandissimo bocca al lupo Sì certo la prima parata è stata secondo il mio punto di vista una bella parata e lì mi sono un po' sbloccato non nascondo che quando sono entrato il primo rinvio mi tremavano un po' le gambe quindi quella è stata comunque poi fondamentale Ultime due Sì le parole di Sorrentino quando sei entrato insomma cosa ti ha detto e poi in vista di un altro esordio ora all'Olimpico se già ci pensi Sì Stefano mi ha detto stai tranquillo sei forte sai quello che devi fare adesso tocca a te non ti preoccupare mi ha detto questo poi riguardo la partita che viene noi cercheremo di alzare subito la testa e farci trovare pronti per quella partita comunque all'Olimpico che è un campo difficile Alastra che dunque è pronto per l'esordio dal primo minuto dopo l'esordio di Serie A all'Olimpico contro la Roma partita difficilissima per il Palermo partita che potrebbe vedere un nuovo allenatore sulla panchina del Palermo come leggiamo sempre dalle pagine del Corriere dello Sport Zamparini richiama Iachini nuovo colpo di scena ritorna sulla panchina lez allenatore esonerato a novembre dopo la vittoria col Chievo il tecnico dovrebbe guidare la squadra già da domani nel ritiro della Borghessiana adesso appunto c'è il Rebus Portiere dopo il K.O. di Sorrentino dovrebbe parare Alastra anche se emergono i nomi di due svincolati quelli di Frison e Avramov dunque Palermo che sonda il mercato degli svincolati anche se il tempo strigge e anche se comunque Alastra ha dato dimostrazione di poter sostituire degnamente il capitano Stefano Sorrentino in attesa ora di avere novità sul ritorno di Giuseppe Iachini in panchina e sul conseguente esonero di Giovanni Bosi il Palermo si prepara alla partenza per la Borghessiana per il ritiro punitivo nella settimana che porta alla sfida con la Roma e con questo chiudiamo per il Corriere dello Sport adesso passiamo ai quotidiani locali passiamo al giornale di Sicilia che apre con un gioco di parole la panchina non è immobile l'attaccante del Torino stende il rosa e Bosi adesso vede traballare ancora di più la propria posizione Giardino sblocca la partita poi dominio Granata ritiro e Iachini all'orizzonte quindi Palermo vicino ad un ennesimo cambio in panchina cambio in corsa per quanto riguarda questa stagione sarebbe il sesto avvicendamento sulla panchina rosa-nero e leggiamo sempre dalle pagine del giornale di Sicilia il Palermo cade a pezzi e sta pensando a Iachini sta tornando Iachini infortuni a Goldanica e Sorrentino che potrebbe stare fuori un mese squadra senza gioco i Granata passeggiano la chiave tattica leggiamo piccole varianti sul modulo di Ballardini quindi si torna 4-3-1-2 con Vasquez trequartista ma la differenza la svolta l'ha fatta il mercato perché il Torino alla fine è riuscito a rinforzarsi con Immobile che è stato il migliore in campo per i Granata il Palermo invece ha acquistato Balog che sorpresa se poi ieri è finita come è finita il commento anche ironico del giornale di Sicilia per quanto riguarda l'amo viole il calcio di rigore c'è quello ovviamente del pareggio del Torino ed è un'ingenuità di Brugman Immobile si infila tra Morganella e Brugman e trova il fallo in aria una delle tante ingenuità della stagione in rosa nero leggiamo anche in breve il film della partita secondo impatto Rosa da favola Vasquez lancia Morganella cross al centro e Girardino anticipa Massimovic di sinistro battendo Patelli dopodiché al diciannovesimo il rigore di Immobile al ventitresimo Belotti sbaglia a porta vuota Belotti che sbaglia ancora al ventottesimo con un diagonale che termina fuori di un soffio e al trentunesimo arriva il vantaggio del Torino con il cross di Bruno Perez deviato in porta da Gonzales nella ripresa è dominio del Torino a secondo Immobile apre per Benassi ed si esalta a lastra con una deviazione in corner dallo stesso corner Randelkovic salva sulla linea sul colpo di testa di Moretti Girardino al decimo può pareggiare ma il tiro al volo viene smanacciato con un colpo di Reni da Padelli Ciocev Murato da Benassi al quattordicesimo al diciottesimo Glick sull'esterno della rete al ventunesimo Alastra ipnotizza Immobile che però fa il tris tre minuti dopo al ventiquattresimo a tu per tu con Alastra Immobile non sbaglia e trafigge il diciottenne portiere del Palermo buttando il pallone sotto la traversa quindi tre a uno del Torino che vince con ampio merito la sfida del Barbera e leggiamo dopo la sconfitta paura della B per il Palermo notte frenetica e Zamparini verso il dietro fronte dunque Zamparini pronto a richiamare Giuseppe Iachini legame compromesso interesse comune con Iachini ovvero la salvezza del Palermo la nottata di Zamparini a quanto pare è terminata con la riflessione finale ovvero quella di dover portare Iachini a Palermo leggiamo anche le pagelle della partita di ieri da parte del giornale di Sicilia Alastra è solito a raccontare Vasquez l'unico a tenere botta 6 e mezzo per il diciottenne portiere nativo di Erice l'unico rosa che può uscire dal campo contento è il giovanissimo portiere classe 97 che prende il posto di Sorrentino col Torino già in vantaggio due ottimi interventi su Benassi poi esce sui piedi di Immobile non evita la terza segnatura granata sul diagonale riavvicinato dello stesso Immobile leggiamo 4 e mezzo a Gonzales che va a segno nella porta sbagliata come all'andata peggiore in campo insieme a Iva Ilochocev una prestazione in linea con il suo rendimento stagionale però estremamente tra il rosanero più impiegati quindi anche una critica al centrocampista bulgaro che continua a fornire prestazioni insufficienti tra le sufficienze leggiamo anche 6 e mezzo di Vasquez anche lui tra i migliori in campo e 6 a Girardino sufficienza per il gol che illude il rosanero un bel gol di sinistro del settimo della stagione poi si affloscia anche perché riceve pochi palloni in area di rigore queste sono le pagelle del Palermo a parte del giornale di Sicilia leggiamo anche le dichiarazioni che già abbiamo ascoltato di Bosi e di Alastra Bosi che si lascia scappare la mia squadra è la primavera dando in pratica la certezza sul suo addio alla prima squadra leggiamo anche per quanto riguarda al mercato la società pensa all'ingaggio di Avramov dopo l'infortunio di Sorrentino dunque il Palermo potrebbe sondare come già letto prima il mercato degli svincolati let's portiere di Fiorentina e Vicenza attualmente in pole position per ricoprire il ruolo di portiere d'emergenza in casa Palermo poi leggiamo anche le parole di Stefano Sorrentino dalla pagina Twitter del Palermo momento difficile ma ne usciremo dunque Sorrentino che si dichiara fiducioso per il momento negativo del Palermo leggiamo anche le parole di Ventura allenatore del Torino nel dopo partito il gol a freddo è stato una scossa abbiamo creato 8-9 occasioni nitide dunque anche di chiarecriminare il tecnico Granata Immobile tra l'altro ora sogna il ritorno in nazionale dopo l'ottima prestazione del Palermo se abbiamo creato tanto prosegue Ventura va dato tanto merito a noi ma quando è così ci sono pure i demeriti dell'avversario dunque Ventura che sottolinea anche il momento negativo del Palermo nella sconfitta casalinga contro i Granata e con le dichiarazioni di Ventura per oggi è tutto l'appuntamento è per domani sempre qui sempre alla solita ora vi auguro una buona giornata la sconfitta Grazie a tutti. La rassegna stampa, gli approfondimenti e le esclusive di Stadionews24. Collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa. Tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera. Ilcalciogiovanile.com, trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano. Da oltre dieci anni portiamo le notizie a casa vostra, come sempre, da una squadra vincente. Stadionews24, la nostra passione di fare notizie. Stadionews24, la nostra passione di fare notizie. Stadionews24, la nostra passione di fare notizie.